La provincia di Reggio Calabria con 200 anni di storia chiude battenti da oggi il cambio delle consegne e avvenuto in prefettura diventa città metropolitana prima di lasciare il passo al sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Ieri l'ultimo presidente della provincia eletto Giuseppe Raffa ha salutato i regini con la gioia di aver servito a detto Raffa una comunità importante per me è stato un privilegio. Sono state queste le parole di Raffa. Nelle salutare i suoi concittadini Peppe Raffa è esaltato l'attività svolta dall'ultima provincia italiana eletta dal popolo l'unica a chiudere con il pareggio di bilancio. Lascio ha affermato ancora Raffa una provincia virtuosa con l'orgoglio di aver mantenuto i conti in ordine. Non è stato facile perché nel 2011 abbiamo ricevuto 30 milioni di trasferimenti dallo Stato. Nel 2016 noi ne abbiamo dovuti trasferire 4 allo Stato. Nonostante ciò abbiamo tenuto lenti in linea di galleggiamento. Ci tengo a rivendicare questi numeri perché chi subentrerà domani non possa ripetere il classico non è colpa nostra ma di chi c'era prima. Noi, ha detto a chiare lettere Giuseppe Raffa, abbiamo lavorato bene e con coscienza e lasciamo un ente con i conti in ordine.